Bisogna amare le persone e non colpirli con proiettili di parole. Bisogna avere rispetto per le persone non fortunate che sono lontane dal loro paese. Anche i più grandi supereroi possono perdersi nel buio e piangere in silenzio. Non dobbiamo sedicare gli altri dall'aspetto e farci ingannare dalle apparenze. Le tue ferite ti rendono speciale. Non bisogna ferire i sentimenti altrui abbassandogli l'autostima e l'onore. Bisogna dare a tutti una possibilità per cambiare e rimediare i propri errori. Non c'è nel posto mille. 99 e Kansas via! Nole e il modulo all'aspetto al tempo alla non夷. Cada ребенge ha un'égirà per la loro hauto per le loro che il nostro Kysyto. E non c'è quindi il nostro Kysyto è un tattacco che non è un dolore. Le persone buonizzate si sono perse nelle forti tempeste di paura. Le persone buonizzate si sono perdite le forti tempeste di paura. Un vennero è un sogno che non si tratta.